Signore e signori, come promesso, dopo la pausa, dopo l'1-0 dei DRX, VDRX finalmente convincenti, chiaro il test non dei più difficili, però comunque abbiamo visto del buon DRX gameplay, come ci aspettavamo di vedere. Assolutamente sì, è stata una partita molto secca, a senso unico, trascinati dall'arriva ai duo, con una Felios che poi si è fatto recipiente di questo vantaggio e che ha portato da subito il suo contributo con quella spenda doppia in botlane. Non c'è molto da dire in termini di draft, erano due draft molto simili, con quattro campioni a fare da enabler, forse è più giusto dirne tre, nel caso degli Amalife, che avevano anche una Zir da sfamare, oltre che la Jinx. Per il resto, appunto, uno o due per carry, molto forti teamfight per ammettere le formazioni, un pochino più forte il grosso 5v5 frontale, forse per gli Amalife, un pochino più l'enfasi sul pick-off in fase di gioco rotto per il duo Arrivai, appunto, che doveva trovare il target isolato e andare a mettere la CC Chain. Per il resto, una partita appunto ben giocata dai DRX con gli Amalife, che hanno pagato quel pick in più da sfamare. Infine sarà Zeka a prendere il POG. Abbiamo parlato anche di ottimi numeri per Deft, che ha raccolto un 9-3-2 di score con un danno molto alto, 26.000 danni su 32 minuti di partita. Però, effettivamente, anche i nostri colleghi dalla Corea sono d'accordo che sia stato il jungle mid duo a mettere la partita sui binari giusti e a dare poi l'opportunità a Deft di farsi minaccioso. Sì, è stato comunque, come sempre, l'ambito dell'Ari sta mandando in LCK con la maglia amorosa punta e critica. Zeka non è stato diverso, sostanzialmente in questo game il playmaker vero e proprio l'initiator di moltissime delle azioni di questa squadra. Si divide un po' i voti con comunque Deft. C'è un voto anche per Pioscik, che abbiamo citato essere veramente strepitoso. Se vi state chiedendo perché siamo già qua a parlare del POG alle 8.55 di questa mattinata è perché comunque ci poteva essere questa settimana a rischio di daybreaker. Sono stati risolti tutti quanti in caso di parità come potremmo, anzi, come dovremmo in teoria avere tra le tre squadre, tra quarta, quinta e sesta posizione, si risolverebbe tutto quanto con i differenziali tra vittorie e sconfitte. Però la schedule è una schedule, va fatta prima, i biglietti vanno venduti e quindi non si poteva rimborsare non so quanti spettatori ci siano all'interno dell'LCK Arena in questo momento, che non sono neanche pochi, visto che abbiamo visto che comunque sono in tanti a dare il supporto a queste due squadre, tanti anche per gli Amolife, gli Amolife che, va detto, non hanno risposto particolarmente presente in questo game. Sono stati molto concessivi. Hanno soprattutto mancato l'occasione di cavalcare con l'ottima fase di corsia di Dudo, però, d'altronde, si erano un pochino complicati la vita in draft. Effettivamente avere l'hyper carry in più da sfamare, avere anche, per certi versi, Dudo, che, per carità, ha detto tutto bene e non ha avuto bisogno di richiedere supporto, però quello poteva essere direttamente il terzo carry da supportare perché andasse online. Quindi, un po'... è questa l'identità degli Amolife. È questo, lo sappiamo, vogliono giocare comunque scaling, vogliono giocare cauti, non hanno nelle proprie corde un bel gioco tempo, un ritmato, con tante call macroscopiche, tante cose da far accadere quanto prima, però, ovviamente, la vanno a pagare. Questa loro inclinazione verso l'late game, soprattutto contro quelle squadre che hanno un pochino più di brio, un pochino più di idee sull'early game. Specialmente quelle con, quindi, dei jungler forti e creativi, come Bioshik, per l'appunto. Forse vanno anche a scontare un match-up non particolarmente facile, va detto, questi Amolife contro questi di Arex. Forse una squadra più da andare a giocare contro quelle che amano scalare, per quanto possa essere terribile affrontare, ad esempio, la prima per il Amolife, i G&G. Forse quello è un match-up che per l'identità delle due squadre potrebbe addirittura essere più morbido. Sto veramente facendo l'avvocato del diavolo. Sappiamo tutti che la stagione di Amolife è stata disastrosa. l'1-16 accanto al loro tag, né la riprova di Arex. Dal lato rosso possono comunque andare a chiedere qua la serie su 2-0, avendo uno dei migliori score dal lato rosso dell'interesse game. Vediamo adesso con questa seconda Champions Select. Cosa cambieranno? Cosa cambieranno le due squadre? Poppy è il primo cambiamento, non perché fosse assente, ma perché era stato il primo ban dei di Arex dal lato blu. Rimane l'identità, ma cambia la squadra. Amolife avevano bannato tre campioni, Triaia di Kerry, Kalista, Sivir e Zeri. Si cambia tanto perché va via Azir. Hai detto giustamente, piccolo dettaglio, Pioschik è un jungler molto creativo, un jungler pazzo, lo abbiamo sempre chiamato lo scienziato pazzo, che può cambiare le sorti della partita della sua squadra in positivo e in negativo. Da red side non sempre si è visto lui recipiente dell'R5, ma comunque teniamo d'occhio anche quello, perché è un giocatore che può tirare fuori i carry quando serve. Abbiamo visto più volte la sua Kindred, abbiamo visto iniziare a comparire anche qualche Karthus, non so se sarà questo il caso da parte sua, ma iniziamo a mettere un po' di piccoli ami. Vediamo cosa boccherà l'autore di Alex. Per il frattempo, Yawalife, il primo pick dovrebbe essere questa Kalista che è rimasta a loro disposizione. Sì, che era stata bannata a parti invertite da Yawalife quando si trovavano a red side. Sì, è una Kalista ben coperta, coperta dal ban di Poppy, dal ban di Draven, quindi i suoi due principali counter, se vogliamo, sono stati annullati. C'è la possibilità ora di andare a giocare o l'altro carry un pochino più dinamico che potrebbe andare a schierare, i vari Ezreal, i vari Katelyn, che si siamo un po' persi per stata Varus, è vero? Varus è un altro pick discretamente forte, che sta ricevendo anche molto amore in solo queue, un piccolo buff che ha ricevuto la patch fa, lo vede partire con 3 di add in più. Non è tanto, però sta facendo tutta la differenza del mondo apparentemente, perché Warrate ha preso una bella piega in solo queue, sta addirittura ritrovando popolarità come mid laner AP e forse quella è la build che più fatico a digerire, è veramente molto forte. Sono curioso di vedere se prima o poi salterà fuori un Varus AP mid durante un playoff, magari, perché è inspiegabile quanto forte sia quel pick e quanta utilità comunque riesca a fornire con le sue catene della corruzione. Botlane che ovviamente, presente a Kalista, presente a Momo, va proprio così a delinearsi. Uno dei migliori botlane duo di questo Summer Speed. Kalista per SamD. a Momo vista, un pick che gioca tra l'altro molto bene, secondo me, ha una grande sensibilità per quei massive initiation con la Suprema, con la maledizione della Momia triste. Sono curioso poi di approfondire un po' questo matchup Varus Kalista, perché lavorano un po' in modo differente, anzi, lavorano agli antichi. Varus molto burstish nel suo modo di gestire il fight, vuole andare in ulti, vuole andare a concatenare i prop di passiva e proccarli entrambi con una Blighted Quiver. Al contrario, Kalista vuole il fight molto lungo, dove possa grindare, riposizionarsi con la postura marziale, fare dell'avversario un puntaspilli e poi strappare le lance con la lacerazione per il danno burst. Mi piace il takeaway di Vaiko, perché con Ari già alloccata per i DRX avresti avuto enormi problemi a risolvere effettivamente la partita. con Vukong ti apri sempre la possibilità di avere aggressione lato dei DRX, ma almeno non possono letteralmente cliccare sui tuoi campioni e vedere che tutto quanto funziona da solo. Sì, il Varus è sicuramente il pick più interessante di questa draft al momento, l'interazione con Kalista la stavi citando. Campioni molto più burstish, diciamo, quello che è l'identità che presenta Varus dall'altro lato, Kalista, i fight più prolungati, la volontà di reinserire a Mumu all'interno dei fight, più o più volte, praticamente, ribendaggi quelli che ha a propria disposizione, ricordiamo, al momento, la Mumia triste quando è un'accoppiata con proprio Kalista, ma adesso bisogna parlare di questi ban, perché i DRX hanno fatto i compiti, se hai Ari devi togliere Lissandra e Swain, e questa è una frase che abbiamo detto così tante volte durante lo split che sembra strano tornare a dirla dopo che era un po' sparita. I ban di Lissandra ad un certo punto erano totalmente mancati dalle draft di questa LCK. È stata una fase in cui addirittura si è giocata Lissandra senza che Ari fosse preponderante, che è verso il giro di voa di questo summer split dove Ari aveva perso un po' di priorità. Siamo tornati a vedere un Ari giustamente protetta con questi due ban, tra l'altro non beneficia del miglior jungler possibile dal suo fianco, non è presente Vai, hai detto bene, geniale la soluzione del Yama Lifeline è andare a sottrarre quel pick. Probabilmente possono anche andare a investire nello skill matchup con una Leblanc per Karis, possono andare comunque a darsi l'opportunità di essere loro aggressivi con quella Vai. Ok, che sia questo il preludio di un Kali Karis, qualcosa del genere, un po' sul fronte comunque degli AP Assassin per fare meglio proximità con Vai, anche perché di AP Damage ce n'è bisogno. Abbiamo anche un peccato non avere un campione con cui capitalizzare sulla passiva di Amomo, chiedovenia. E sarà Sylas? Effettivamente Sylas ce lo siamo un po' persi per strada. È stato ad un certo punto un immancabile ban di prima rotazione, specialmente quando c'era ancora tanto braccio di ferro sulla... cosa ha? Riede King di questo over di Nila. Nila non sarà di certo Varus support, vero? Sarà di certo Varus top. Cosa sta succedendo? Ok, sono un po' di over su qui sarà di Grandier X. Non è manca comunque. Lo sappiamo, il pick che manca è per la corsia superiore. Olaf. Olaf in Tour Enecton. Forse questo matchup non l'ho ancora visto, questo split. Stavo facendo un po' di ricostruzione tra i vari campionati che commento. No, non l'ho ancora visto, però non deve essere... non deve essere male per Olaf. Comunque, esaurito il suo burst con la V full staccata e quant'altro, Renekton poi non ha ammontari di danno sostenuto elevati che possono abbattere un Olaf che è basso di punti di vita che carica questa bassa. E un po' tutta la composizione degli Awalife in realtà ha grandi crowd control, quello che poi cede però è danno. Quindi, ci vuole Karista, ci vuole Karista che faccia di quell'Olaf un puntasfilli, ci vuole la lacerazione, ci vuole una concatenazione di danni misti sull'Olaf che sappiamo non subire dal crowd control punto e clicca di Renekton, dal crowd control punto e clicca di Vi. Quindi, abbastanza interessante questa idea. Effettivamente può davvero essere il carry della corretta superiore che non ti aspetti. Mi sorprende un po', anzi non mi sorprende, mi dispiace un po', data la composizione a questo punto di Diarex, non vedere effettivamente un enchanter, ovviamente contro Mumu non vuoi rischiare troppo, vuoi avere un po' più di agio, di movimento all'interno della lane, però hai Varus, hai anche Ari che può essere velocizzata, Bukong, non ne parliamo, Olaf ovviamente, ci sarebbe stato bello un enchanter per dominare la priorità di Corsia, per cercare di pushare fortissimo e poi favorire l'inserimento di Kingen all'interno dei fight, ma la cosa più importante è che finalmente un po' di amore per Kingen, non solo i tank in Corsi Superiore, puoi giocare anche Olaf, puoi anche correre in faccia agli avversari urlando come un folle lanciando le tue asce, sanno di Diarex che questo potrebbe essere l'ultimo game della regular season e vogliono divertirsi un pochino dall'altro lato per una composizione molto molto forte e molto molto aggressiva per gli UALIFE e speriamo di avere un match all'altezza delle aspettative perché questa potrebbe essere un bel bloodbath a cui stiamo per assistere. Ovviamente sono due composizioni che vertono molto su fight scoppiettanti, su grande action e non hanno troppa volontà di chiudersi e favorire lo skilling di un hyper carry e letteralmente nessuna delle due formazioni ha un singolo campione che abbia bisogno di tempo, sono tutti campioni che fatto l'oggetto mitico o fatto il primo leggendario rushato nel caso magari dei The Jungler hanno fatto, sono arrivati praticamente già al loro punto di massima resa possibile rispetto ovviamente a tutto il parco campioni quando si parla di Spike ovviamente davanti il game più migliora il tuo campione quando si parla di Spike ha proprio della perfetta coincidenza tra quanto quel campione può rendere a livello di minutaggio a livello di composizione e quanto quell'oggetto ottenuto vada appunto a remare nella stessa direzione del kit del campione è proprio perché sono tutti campioni molto forti e scoppiettanti già in early game ottenuto il mitico per King per Pioshi per Zeca ottenuto per Deft per Beryl hai fatto quindi grande lotta per il messaggero per generare l'effetto valanga per essere il primo a spingere quella pallina di neve in cima alla vallata e trasformarla appunto nella valanga non mi aspetto una partita con grande enfasi sui draghi e con i tiani lungo termine questa è una partita che può veramente finire in 18 minuti se fosse una partita di solo Q sì veramente è molto molto volatile come game in generale molto molto orientata allo snowball dal lato e dall'altro Ingen abbiamo visto andare a piazzare il volume in profondità e andare a fare l'Olaf livello 1 si va all in non è gangplank ma comunque può trovare questi trade prolungati fin da subito stacca addirittura il contestatore e prima che compaia la statistica la statistica delle campioni giocate di Rx questo è il dodicesimo game di Zeca per Ari in summer su 44 partite veramente sono numeri spaventosi da one trick che praticamente ha vissuto questo questo spito adesso voglio andare a recuperare anche la statistica dei campioni giocati in assoluto ma sono abbastanza sicuro che Ari sia il pick presente per il mid laner di questi di Rx comunque potrebbe subire quale inserimento di on flick perché comunque l'ondata non è nel posto più comodo del mondo molto aggressivo Olaf ma poi non riesce a far crescere la wave si va a piantare in una posizione molto scomoda grazie della conferma nel frattempo ma un flick non riesce a trovare il gank e questo è quello che più interessa adesso vede ovviamente va in quella zona di mappa e Olaf potrà essere anche più libero vado comunque a recuperare le stat per curiosità te le do io se vuoi mi segno da sotto mano stiamo parlando di un Zeca che ha giocato già 11 partite aggiornato al game precedente con un 54.5 di win rate e un 7.2 di KDA il secondo campione più giocato è il suo Azir con 42.9% di win rate 7 partite giocate 2.8% di KDA quindi è ampia la preferenza è più del doppio delle selezioni del suo terzo pick più utilizzato che ha un pari meglio di attaccare i corchi quindi veramente una stagione per Zeca molto spesso su Ari guardando invece le statistiche dell'intero anno rimane il più giocato con 16 presenze Akali la seconda con 11 se andiamo a vedere la sua carriera in assoluto si va più su quegli assassin di che abbiamo parlato Ari ha raggiunto la top 5 però la prima è Leblanc poi c'è Zoe poi c'è Silas poi c'è ovviamente Akali che è sempre stato il suo trademark è sempre stato un po' il suo pick migliore di tanti giocatori nuovi o comunque meno nuovi arrivati in questo LCK Akali è diventata trademark per un certo periodo però parliamo di un mid laner che ha faticato a raggiungere anzi ha faticato a staccarsi dall'ultimo posto in passato visto che sarà con questi diarex ora occhio perché proprio lui potrebbe essere il bersaglio di interesse di Zeka ottimo il movimento attorno allo spaccaferro attorno alla sua ondata riesce a non dover spendere neanche il proprio flash poi continuare a farmare e a distaccare un po' in esperienza il mid laner avversario oltre che in farm sono due wave di vantaggio Karis ha fatto il livello 5 mentre Zeka lo aveva già da un po' può sembrare un po' puntigliosa da parte mia adesso parliamo di provare la botte lane ma vediamo doppio vendaggio forse broma riuscirà a resistere sì alla fine è un trade non so se è vinto effettivamente di erex vista subito molti danni ma ma no vinto perché ne ha un'altra di pozione e beryl e quindi ben contento di aver assorbito questo doppio vendaggio da parte dell'avversario sono le pozze per San D ancora presenti effettivamente contro i biscotti per Deft però è una fase di corsia che abbiamo detto Varus Brom può assorbire abbastanza bene sono grande fan di Varus Brom pensa che è una delle corsie che ho più ho più rimpianto all'interno di questo summer split mi ricordo quanto segnanti fossero state del meta 2021 questi due campioni e non averli visti praticamente per niente mi è spiaciuto molto Pioscik e Onflick ancora le prese l'uno con l'altro ma non è nulla di fatto dicevo di quell'azione di Onflick l'azione di Onflick con Ari che ancora non ha livello 6 è veramente da secchiata d'acqua ghiacciata sulla nuca da parte del coach perché non c'è alcun bisogno di andare a cercare la Qmax range la cosa che insegnano ai jungler veramente apprendisti di bassissimo livello è avvicinarsi e non usare subito i flash o le abilità da gap closer usarle in reazione al tentativo di movimento che inevitabilmente arriverà da parte dell'avversario lì si è dato proprio pochissime possibilità a Onflick di portare a termine quel gank a non tirare la Qmax range o cercare il predict forzato non in competitive magari però effettivamente è una scelta molto molto discutibile quella del jungler degli Amorife che non sta vivendo anche lui una stagione eccezionale abbiamo visto un buon primo game da parte sua a un certo punto poi però ha dovuto cedere il passo rispetto ad un Pioscik che bene o male nonostante un trade perso adesso nella sua giungla superiore è più in salute rispetto al diretto avversario sta farmando senza alcun problema sta continuando a gironzolare per la mappa aspettando la possibilità di aggredire davvero di trovare facili ingressi dovrebbero riuscire a trovare comunque gli Amorife ora potenzialmente anche un drago ma la cosa che preoccupa di questa superiore non è tanto che Renekton stia prendendo l'argo granchio è che Renekton sia costretto a prendere l'argo granchio perché Kingen lo vedete fermo sulla minimappa da qualche secondo ormai da qualche minuto stava congelando perfettamente le ondate e ora sta facendo riasciare una gigantesca wave posso immaginare veramente a campo avversaria sì una wave intera di vantaggio infatti anche a livello di farm dando per scontato che si siano un po' palleggiati le ondate questo è un cheater recall in piena regola per Kingen avrà tutto il tempo per tornare a piedi non può andare al congelamento Dudu nella maniera più assoluta sta gestendo molto bene soprattutto se consideriamo che si è anche dato il checkpoint del mietitore che sicuramente andrà a dare una bella mano Olaf per rimanere relevant in termini di gold income molto cauti ancora più del primo game entrambi i membri di entrambe le squadre vista prova ad essere sempre quello aggressivo vista durante l'ultimo stagione degli Unvalife nel 2021 quando erano bene o male un super team anche se poi non si era dimostrato così tanto all'altezza in Summersplit era un po' si tesseva il paragone con Illissang per lo stile molto aggressivo il fatto di vederlo su Amumu ora fa ben sperare per la partita di Unvalife ma c'è anche bisogno di iniziare a prendere un pochino perché comunque hai una calista hai una Mumu potenzialmente hai un solo campione che può scalare bene nei fight ed è comunque un Sylas sì Sylas che sappiamo essere ben contento anche di prendere parte alle schermaglie dal ottenimento del suo Everfrost della sua zona magari ecco fatto quello è perfettamente orientato verso il suo approccio verso la sua identità di initiator barra schermagliatore è un campione molto completo che davvero può anche approcciare la partita un pochino più da carry giocando più safe arrivando al terzo o quarto oggetto qui però sì è altissimo il ritmo delle due squadre sarà assolutamente richiesto a questo Sylas di farsi vedere dalle parti del messaggero Kingen è veramente pericoloso però in questa fase del game assolutamente sì prima di arrivare la botta sarà Mumu ma c'è già l'ingaggio Dominus da parte di Dudu che però lo costringe ad allontanarsi Karis scatta al di qua del muro occhio perché Zega vuole andare all'inseguimento sono arrivati anche Deft e Beryl questo vuol dire sì che Kalista farmerà in tutta calma ma che è un 5 contro 4 Vista però trova una stupenda maledizione la mummiatrista c'è il season desiste Zega ostenta a flashare via ma flasha in anche Dudu Deft però con la feccia penetrante riesce a trovare i suoi danni non avrà il mana per insistere ma sta apparecchiando la tavola finché possa arrivare il barbaro a trovare l'uccisione una doppia per Deft ancora una volta Karis inseguito da Kingen non ha più il Ragnar ancora più la spettralità basta il rallentamento di un ascia ma Karis è molto rapido e sembra essere intenzionato ad allontanarsi ecco il rallentamento colpo di catena per aumentare ancora una volta la distanza potrebbe esserci il regicidio lo scudo salverà Kingen serve il mana per ultima Q non vuole correre alcun rischio il top 1 è DeDarex che raddano alla fine in vantaggio in quest'anzi in pari visto che è ancora solo 0-0 su questo obiettivo cancellano la conquista dell'obiettivo stesso per gli avversari ma devono essere rimandati anche loro a voglio il replay di vista però perché abbiamo detto può essere splendido in aggressione e l'ha fatto vedere ha trovato un angolo fantastico anche senza disporre del flash è ben visto perché è andato semplicemente a connettere con un lancio della venda e trovandosi in una posizione perfetta per il 3-man alt no effettivamente ce l'ha dovuta mettere summoner è andato a trovare un ottimo angolo però ne vale assolutamente la pena si tratta dell'initiation perfetta senza neanche aver dovuto beneficiare della chiamata del fatto per essere proiettato in avanti in modo un po' più comodo in modo un pochino più punta e clicca skillshot a segno doppia per Deft ottimo modo di condurre la schermaglia peccato poi se nulla di fatto la presa del messaggero per questo anno sono scambio drago per messaggero ma forse si rendono conto che la partita che prometteva di essere esplosiva sta già andando un pochino più a vertere sul tema dei quattro draghi un late game visto che non si stanno troppo sbottonando le due squadre questa è una EPL una partita che sarebbe praticamente prossima alla fine una partita che starebbe già avendo un chiaro vincitore un chiaro vinto in NCK anche le comp un pochino più scoppettanti a tempo based le vediamo giocare con cautela vediamo giocare con la garanzia parare da qualche parte non di schermagliare per il gusto di farlo per il gusto di prendere vantaggio peraltro adesso non possiamo ovviamente comunicare con gli observer non possiamo chiedere di mostrarci i gold ma quando stava iniziando quella schermaglia sul messaggero gli arex hanno praticamente 1000 gold di vantaggio solo dalle ondate adesso si è molto appiattita la situazione Giusecca ancora una volta deve guardarsi da carissi a un flick costretto all'assalto spirituale ma non ti interessa così tanto Chelsea se esiste si allontana verso la propria torre Zecca ma rispedita indietro allo spaccaferro e alla fine ha tirato un pochino troppo la corda qua questa giustiziata dall'intervento poliziesco di on flick molto veloce a prendere questa decisione on flick va per il verso giusto non c'erano abbastanza istanze di suprema non c'era il flash per cui Zecca non poteva andare all'internazza addirittura sotto la torre bella anche l'azione quasi da mini insect con il piccolo knock up dare a favorire l'inserimento per cariss con le sue catene davvero ben giocata un uomo in più che purtroppo non può immediatamente tradursi nella presa di un obiettivo neutrale ma che comunque va a impreziosire ancora una volta l'inventario di on flick che arriva alla motospada così come arriva cariss al suo everfrost va a matchare il mitico che anche Zecca dal regno dei morti è andato ad acquistare Zecca comunque che grazie al lavoro eccellente fatto in early game mantiene un vantaggio di gold si può vedere dall'inventario c'è un sigillo oscuro c'è un libro in più rispetto all'avversario quindi era uno dei principali fautori di quel vantaggio di cui parlavamo dell'early game di di Arex ora devono iniziare a rispettare l'avversario non è un vantaggio così gigantesco e Varus con quell'arco scudo di mortale tra poco immagino anche pugnale di ira per lui avrà diciamo è il discorso che ho provato a fare un po' di tempo fa in passato con Sivir e Zeri sono due campioni Kalista e Varus che buildano fondamentalmente allo stesso modo quindi per Varus mantenersi al passo di Kalista potrebbe voler dire essere leggermente in vantaggio perché comunque Varus può lavorare meglio rispetto a Kalista è uno scenario ideale è un Varus che forse qui avrei voluto davvero tanto nella sua salsa da letalità è una composizione che il più coriaceo campione che ha forse alla lunga sarà Mum anche Renekton assolutamente si va per la solita build Gore Drinker Sterak e non va per Lama delle Rovina sarà un campione abbastanza duro da buttare giù però non è automatico che non vadano buttati giù da un Varus da letalità assolutamente la faccia per l'italante poi andrà a fare veramente malissimo specialmente quando va a trovare danno sulla Missing e alzo la salute mancante quindi non lo so questa scelta forse potrebbe dare qualche problemino a Defton nell'essere davvero efficace nel fare DPS più avanti ha un campione dedicato per il peeling effettivamente in Brom ha anche un campione che prenderà tanto più focus per lui che è Olaf però chiudere rapidamente le kill su campioni che hanno tanto sustain come Renekton come Silas la vedevo veramente come un'ottima cosa praticamente non potevano stare a low HP che è la zona di comfort di Renekton e Silas perché si beccavano a Blighted Weaver e scoppiavano quindi sì sicuramente il dubbio rimarrà rimane verosimile che la build da Hell of Blades e l'etalità fosse la migliore non per questo Deft farà poco danno o nessun danno era anche quello che pensavo quando in draft stavo parlando di possibili enchanter pensavo ovviamente alla karma di vista che abbiamo parlato ma qua ne parliamo tra poco perché viene inchiodato Pioshik sul posto veramente criminale in questo modo in questo positioning non doveva farsi trovare le Pioshik senza troppo girarci il forno giustiziata anche in questo caso da il terzetto degli Anualife veramente puntuale Barry il costetto al flash da un tentativo anche abbastanza timido di vendaggio da parte di vista ma mette paura adesso ora Anualife posso provare ancora ad andare in avanti con Sam D con Redbuff si può far sentire Kingan e Dudu iniziano a lanciarsi schiaffoni adesso in questo è superiore ma nulla di fatto Kingan ha colpeato il meditore e l'ha venduto ovviamente qualcosina in più Kingan l'ha tradotto in termini di gold efficiency qui ed è anche per quello che marcano stretto i DRX nonostante siano sotto di due decisioni sarà in ballo il primo mattone può scombussolare un po' questa gerarchia economica bello il furtarello qui di Kingan altri 100 gold giustamente per lui accogliare il gromp un po' di sustain di cui non aveva bisogno non aveva un po' più bisogno Dudu ma sappiamo che troverà la guarigione anche sull'ondata adesso replay del furto no perché replay del suicidio fondamentalmente di Piosci perché stava cercando un gank e invece è stato flancato lui non poteva fare altro poteva provare continuare a correre verso il blue buff ma avrebbe dovuto contare su un vista assopito perché mancasse un lancio della benda da così la distanza così ravvicinata ma Dragok questo si potrebbe iniziare a far appendere pesantemente la bilancia per un'altra squadra specialmente forse il secondo Dragok di fila per i diarex aprirebbe per loro uno scenario di maggiore cautela hanno il carry a questo punto un po' più longevo all'interno della partita vista l'utilità che può fornire quelle catene della corruzione e il fatto che generalmente comunque anche per la build da Onit quella chance di fare execute con la Vlighted Fever Varus la conserva Kalista vuole sempre comunque tanto tempo per andare a staccare le lanci andare a fare danno è un leggero vantaggio per il late game che ancora vado a personalmente a indicare per i diarex se non è capace di prendere il secondo drago poi ovviamente a mangiare la gioia occhio perché sta arrivando il coccodrillone vogliono fare palino di questi diarex ma non sarà facile ora sono loro a prendersi l'aggro dell'obiettivo occhio puntati su Piosic ma anche su Caris che ha l'assalto spirituale si fanno in avanti ora vedono sai la salita nel pit Beryl va immediatamente a prendersi cura del mille l'avversario Zega si tuffa dentro trova la connessione di tutti i suoi controlli ma gli ammolese giro per N viene cancellato istantaneamente Caris per l'assalto metrista di vista che trova anche l'ex sul mid lane avversario Piosic però si tuffa dentro vuole andare il seguimento di SEMD riesce a boncarlo dal di là del muro Dudu sta facendo un lavoro gigantesco ma non può salvarsi alla fine doppia uccisione per King non flick costretta a lontarsi dal pit che flasha in con la freccia penetrante con le stack di morsi del gelo sull'avversario trovano drago trovano AC di Arex Deft cos'era quello? quante forte sta combinazione mi sono mancati Varus e Bron devo dire mancava un po' di questa salsa alla corsia inferiore troppo tempo a dormire su questi hyper carry quanto può fare Varus molto prima dei suoi colleghi anche con la build che vede per ora soltanto un arco scudo nel suo inventario tremendo veicolo per i morsi del gelo tremenda utilità che può andare ad apportare con le sue catene della corruzione spero che sia un bentornato e che vedremo Varus anche al PO è veramente troppo troppo cool da vedere 3x1 nel pit poi ovviamente non può fare altro che scappare ma l'abbiamo visto il pacco che porta i morsi del gelo chiude e poi la Blighted Quiver praticamente tappata e comunque guarda che danno riesce a portare questo di Varus è stato un pick che non hanno molto rispettato gli AWOLIFE anche perché i pick che dicevo prima vogliono stare l'OHP sono arrivati dopo occhio qui Dudu adesso Dudu trova la mania amorosa Onflick che cerca l'ingaggio sul mito dell'avversario ma trova solo Pioshik chiamata l'elfata addirittura da parte di SamD per ricacciare a sé vista Karis ruba le catene della corruzione quindi facciamo attenzione al Varus full AP di cui parlavi perché Karis sarà un testimone del potere di questa spell al momento che scala sul potere magico quindi farà malissimo visto che ha quei calzari del mago ora gli AWOLIFE però si pullano dietro una cortina di visione perfetta cioè sono i catena correzione ma a trovare Onflick che flash al di là del muro Kinghan in Ragnarok non può flashare per inseguire il jungle d'avversario ma può zonare tutti quanti gli AWOLIFE che faticano addirittura ad avvicinarsi alla torre in questa centrale gli AWOLIFE ora si sono messi al comando di questa partita sono tranquillamente al volante potrebbero premere fortissimo su tutta la mappa addirittura hanno preso il messaggero e tra 25 secondi circa spawna il barone nascia potrebbero usarlo come diversivo potrebbero crearsi ulteriormente spazio hanno una composizione anche molto forte in assedio hanno campioni che possono tranquillamente derivare le torri come Olaf hanno campioni che possono fare dentro o fuori dalle torri con una grande mobilità che hanno come Ari e Wukong e hanno ovviamente il costante fuoco di copertura di un virus da lampissima agitata con la sublight quindi si utilizzare questo messaggero dovrebbe essere piuttosto facile per i DRX possono andare a aprire una delle due side lane visto che hanno già abbattuto la torre esterna in corsia centrale e hanno ancora la propria di torre in corsia centrale esterna questo rappresenta un'importante van posto per andare a fare quel proverbiale tiro la fuori sulla mid che poi dà sbocco alle due parti di mappa al fiume sia che vada verso top side che vada verso bot side quindi DRX con tante più opzioni con una composizione che ha già raggiunto per molti campioni il vantaggio monetario di mille unità di gol sugli avversari quindi si mette bene con questi draghezzeri molto molto bene per loro Zeka non sta spiegando Ari non sta giocando forse la migliore Ari che abbiamo visto ma sta dando lezioni di skillshot agli avversari non sta mancando una spell veramente incredibile qua Piosic prova on flick nel cespuglio torre che cadrà per i DRX viene scambiata con quella che ha appena conquistato Olaf si mantengono a gala il vantaggio economico c'è non è marcatissimo sono 1500 unità d'oro abbiamo visto però tutti i gold fondamentalmente negli online essere nelle saccocce di on flick che è quello che sta andando anche per la build più economica a parte se non sbaglio 1100 gold di vantaggio rispetto a Piosic ma è una vai off tank anzi è una vai tank senza off in questo caso quindi non fortunatissimi sì non sono neanche convintissimo sia ciò per cui vuoi andare forse proprio perché hai un Olaf da buttare giù a tutti i costi doveva farsi carico vai della build con Sanderer e poi beneficiare ancora di altro shred da parte di Renekton che quasi sempre va per una black liver dopo la dead dance o dopo la sterak non abbassare il tiro avere tutti questi campioni su delle build molto conservative rischia soltanto di fare il gioco di Olaf e Wukong che vogliono i trade estesi non sono un grande fan delle soluzioni di build di Anwar Life già la draft è un pochino un suicidio per come poi si è delineata ho già rimarcato più volte come questi campioni che hanno nell'essere l'OHP la propria comfort zone si trovino malissimo quindi a giocare contro Varus che li esecuta da 30% HP quando sarà full build aggiungere a questo problema il fatto di non avere gli strumenti per rannare down Olaf per impedire a Olaf di rannarti down può essere veramente ciò che comprometterà il teamfight di Anwar Life che consegnerà le chiavi dell'8KM IDRX prima che torni in base Karis visto che già ha cancellato un recall ok teletrasporti in questa centrale non vuole tornare in base guarda quello di inventario doppio finish codex per avere lo spike sull'ability ace non ha ancora la classità di Zonia ha il cronografo poi sono comunque quelle statistiche che utilizza perfettamente Syrus quindi ha tutto il senso del mondo e ora sono loro in Anwar Life a portarsi per primi sull'obiettivo ci sono le catene della corruzione nuovamente rubate dalla violazione di Karis occhio all'utilizzo della spell ma la amorosa che va a larga stavolta per Zeka si muovono nel cespugli entrambe le composizioni on flick paradossalmente il più lontano di Anwar Life perché vuole cercare una linea lunga di ingresso con il suo season desiste ora passa sul lume di controllo appena piazzato da Kinghan quindi non ha più il beneficio della sorpresa vista cerca l'ingaggio ma è già molto basso in HP molto fragile questa Mumu solo che si tratta di zogna per lui eccoli danni di Deft che si fanno sentire on flick ancora una volta sul flank ma a parte l'ingaggio da parte di Piosic Dudu è già molto basso vanno tutti su Deft ma non c'è modo di abbattere il tiratore dei diarex alla fine deve pensarci con gli straordinari Karis che troverà un'altra kill è una tripla uccisione per un Sylas gigantesco in questo fight della carneficina risposta per gli Awalife è il primo drago per loro cancellato con un colpo di spugna tutto questo early game di dubbi sulla build di dubbi sulla draft eseguendo perfettamente questo dive coordinato all'indirizzo di Barry di Zeca di Deft che voleva guadagnare una posizione sicura da Backlane che però non è assolutamente sicura nel momento in cui ti fai così tanto avanti Deft ci ha messo chi del suo è arrivato perfettamente a range della concatenazione di lancio della benda e Curse of the Sad Mummy vista ancora una volta protagonista se arriva un lampo da parte degli Awalife è sempre per il suo playmaking è sempre per il suo ruolo di initiator con questo Momo addirittura ha lasciato Zonia è anche stufo di perdere la vita nel momento in cui trova delle initiation così buone deve fare assolutamente meglio Deft in termini di positioning in fase deve essere quasi più lui a condurre il flow del fight t'aprendo con delle catene della corruzione l'ultima cosa che vuoi con questa composizione di Rx è che la tua backline venga istantaneamente bucata da vai da Sam Dinko la sua chiamata del fato che può mandare avanti a Mumu o da Mumu che addirittura trova il lancio della benda e connette sui tuoi backline quello non può assolutamente accadere devono essere King e ne pioggia fare quasi da portieri giocare la fronte a creare spazio qua ti tiro il più classico dei sono d'accordo ma forse dopo che Beryl rischiare l'aggressione ok no ma proprio di Beryl volevo parlare perché giustamente Deft si è fatto vedere molto in avanti e colpevole di questo ma Beryl deve fare peeling e senza vedere Onflick potendo di aspettare l'ingaggio di Dudu di Onflick sul 2 di Kerry la scelta di lanciare così la frattura glaciale in avanti per fare follow up sull'ingaggio di Pioci che non è servito nulla forse non la scelta più azzeccata all'interno di quel fight da parte del supporto di Diarex che comunque sta facendo una buonissima partita sta giocando veramente questa nell'ultimo fight era la sua prima morte insieme a quella di Deft ovviamente se prima abbiamo parlato di Zeke e Pioschik molto più presenti stavolta in caso di vittoria di Diarex il Pog potrebbe andare davvero verso questa per sempre per come si sono comportati fino a quest'ultimo fight ma quest'ultimo fight è successo e ora Inawalefana ha recuperato tutto lo svantaggio di cui parlavamo tra l'altro vantaggio di 2000 unità d'oro più o meno adesso anzi 1300 in verità e vengono completati entrambi fin di Skod XT Karis che è il più classico dei Silas da utilità con Banshee e Zonya adesso stanno ancora andando verso quelle build low damage high survivability che sicuramente compensano il fatto che appunto Varus possa one shot portarli da una soglia di HP anche relativamente alta però lasciano anche tanto controllo del flow del fight a Olaf e Vukong io spero che alla fine la bilancia continua a ricalibrarsi quello che perdono in termini di danno lo comunque guadagnano in termini di tecni a scontro Varus è un po' questo il pendolo su cui stanno viaggiando gli Awalife però qui sul Varone possiamo avere virtualmente la risoluzione della partita soprattutto se i DRX riusciranno a soffrarlo in ultima battuta molto lontano Zekam al tele-trasporto viene canalizzato in questo momento e proprio in zona Caris occhia Onflick nuovamente lungo sul flank guarda Deft terrorizzato si allontana verso la wave in questa centrale Kinghan è l'unico che viene trovato ma adesso che partino l'ingaggio di Onflick sanno che possono andare a giustizia e vai e questo renderà molto 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 più facile il lavoro dei DRX senza jungler sono loro a potersi permettere l'affaccio ora proprio sull'obiettivo grazie al push grazie all'eliminazione Yanwalife dovranno fare un po' gli straordinari Dudu non ha il Dominus per potersi lanciare in c'è il Ragnarok non c'è il Ragnarok per Kinghan non c'è nessuno strumento se non vista ancora una volta per Yanwalife c'è la chiamata nel fato proverà a tuffarsi dentro proverà la protezione di un miatriste ma trova anche lui in qualche modo il barone Nashor ha fatto tutto vista in un modo o nell'altro ed ora Silas può attivarsi possono mettere giù il DPS lui Caris e SamD come è possibile ma sempre vista ma come è possibile ha 9 decimi di POG in tasca vista a questo punto addirittura lo steal del barone ancora una volta arriva nel pit nessuno dei campioni di Diarex ha effettivamente un'abilità da knockback grossa per togliersi di dosso quella Momo e ogni ingaggio che vi sta trovando si traduce in un fight vinto la grande forza di questa coppia Momo Calista sono proprio i tre tentativi che hai per arrivare nel cuore della formazione nemica stavolta lo fa direttamente di chiamata del fatto e va a connettere su quattro va a sventagliare ed è la W era in zonia nel momento in cui l'ha stittato il barone smite che porta 12 HP tic del tantrum di Momo che stila il barone qui non tanto merito di vista quanto più demerito assoluto dei DRX che hanno lanciato la monetina e che hanno fallito lo smite di Pioschik arrivato non a 12 a 24 HP ma era sceso a 18 a 918 l'altra regione l'ha riportata a 24 quindi ha aspettato quel tic per un auto attack che è stato l'attesa di troppo è stato veramente lancio di monetina semmai non ho visto uno in questo caso da parte di Pioschik sarebbe stato lo smite perfetto a 900 HP e non lo è stato non lo è stato per quella manciata per le briciole di salute che sono state hai detto prese dal tantrum dalla W dalle lacrime di una mummia che non penso debba essere particolarmente triste per come si è messa la partita per come ha messo lui la partita è tutto merito di vista e anche di SamD che ce l'ha lanciato all'interno del fight se questo comunque è un game che adesso deve gli Anwar Life pushare con un vantaggio di 7000 metri d'oro e con una Baron Powerplay di 6000 è un vantaggio gigantesco per questa squadra ed è veramente difficile recuperarlo per il tipo di composizione che hanno i DRX hanno una composizione molto stat check specialmente con V con Golaf che devono dettare il flow del fight in front non hanno assolutamente la possibilità ora di fare loro la voce grossa devono subire il danno in gente che i Anwar Life fanno per questo vantaggio monetario potrebbe essere anche la serie definitiva questa se va giù Beryl vanno a forzare l'ingaggio Beryl rialza l'indistruttibile di flashare via Kingen si muove sul flank può camminare in faccia agli avversari lo sappiamo avviene ingraggiato adesso lui Karis rischia molto c'è il ciclone Dudu va ancora all'inserimento e Dudu potrebbe essere nuovamente lui che cade vista molto lunga questa benda perché Zeca utilizza l'assalto spirituale alla fine gli Anwar Life decidono che non vale la pena investire ulteriori risorse in questa zona di mapa andranno verso il drago lo prenderanno senza alcuna spesa ulteriore tra 5 minuti potremmo avere il fight definitivo con l'inibitor respawnato con un altro baron di Nashor da andare a conquistare soprattutto con il drago che porterebbe entrambi i team sul soul point ma gli Anwar Life si presenteranno con 5000 gold in più nei due carry è un bel po' è un bel po' soprattutto per composizioni che l'abbiamo detto fino alla nausea da quando sono usciti dalla draft hanno un'identità molto simile e che vuole essere l'identità di una tempo comp che credisce un grande hit il carry sal 17 Kinghan al 15 Kinghan ha tanto sustain ma difficilmente potrà far sentire quanti danni fa Olaf questa cosa non è corretta alla fine la kill se la prende Dudu che deve andare a darman forte al suo mid laner ma cosa ho visto cosa è quel campione tu che sei un ex top laner potresti averlo meglio di me cosa è quell'Olaf quando comunque si gioca a montari di danno relativamente bassi quando non c'è di mezzo un execute o comunque una forma di burst veramente grossa Olaf trova la sua forma migliore non c'è verso di tirargli fuori dalla barra degli HP quegli ultimi 100-200 punti vita sembrano non andare mai giù forte il grandissimo sustain di Kinghan e del suo Olaf qui è una composizione che almeno una forma di burst ce l'ha grazie a Calista alla sua lacerazione comunque è anche forte che arriva bellissimo si 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 sta nuovamente su Deft ed è game over per i diarex in questo game esecuzione facilissima degli Anualife vedono lo spiraglio si lancia dentro Onflick trova i controlli Deft bloccato lì sul posto non può fare nulla se non pregare che il game finisca presto e buone notizie Deft finirà veramente presto perché gli Anualife sono pronti a portare la serie a game 3 a game 3 devo dire anche basta far filtrare Calista Mumu lo sappiamo che è veramente troppo intuitivo il fight quando puoi beneficiare della gigantesca AoE della maledizione della mumia triste abbiamo anche un POG penso di riflesso ed è proprio vista che ha risolto la partita brillantemente per la sua squadra portando la game 3 potremmo aspettarci qualcosina anche per Care se chiuderà la partita 7-2-12 però il Clutch Factor la giocata perfetta di vista le giocate perfette di vista che giocatore signori che player che potrebbero avere in potenziale questi Anualife in più di un ruolo ma oggi la spiegano corsia centrale e support assolutamente non male l'assenza di di Sam D dal campo anche si è vista cosa ha causato a questo roster con Sam D online sono tutta un'altra squadra specialmente visto che hanno l'identità di squadra che vuole scalare l'abbiamo detto in tutte le salse anche in questo caso era comunque Sam D uno dei più agevolati nel portare danno sostenuto ovviamente essendo un tiratore anche se Calista è un campione che spica nell'early game lo sappiamo ha una fortissima fase di corsia molto forte nelle prime schiervisce poi tende un po' a scadere qui siamo di fronte a un game che è stato praticamente una eterna schermaglia da early game per l'identità che i dieci campioni portavano sull'early game quindi azione davvero indispensabile di DPS da parte di Sam D molto intelligente con le chiamate del fato a proiettare in avanti o a richiamare vista bella sinergia tra i due hanno veramente fatto un lavoro indispensabile perché gli Amalife arrivassero a navigare l'early game e avessero poi anche chance di mettere il colpo del capo continuo a pensare che le build che si stavano dando gli Amalife fossero veramente un gioco molto pericoloso perché sulla carta stavano dandosi gli strumenti per superiore da Deft ma stavano mancando di darsi il colpo del capo per quell'Olaf alla fine però hanno avuto ragione loro troppo migliori gli ingaggi che hanno trovato con Onflick sempre presente sulla backline con il Season Desist vista che con esso sempre brillantemente con delle 3 or 4 men Curse of the Sad Mummy partita davvero bella degli Amalife non c'è nulla da dire di Alex un pochino sorgnoni su questo Redside e devo dire in ottica playoff spero che questa condotta del Redside un pochettino cambi perché se in Best of 3 e parti da Blue Side ne devi scontare solo una di partita dall'altra parte nell'ambito di una Best of 5 devi avere qualche arma in più non puoi vivere in autopilot il Redside e sperimentare provare sbagliare e poi passare semplicemente a vincere dal Blue ci vuole qualcosina in più e spero che gli Alex ci abbiano davvero provato non fosse una partita un po' sottotono ovviamente c'era poco da poter raccontare a questi splendidi ingaggi di vista reso la partita super facile da leggere per quanto riguarda l'esecuzione del Teamfight tra l'altro a proposito di Alex e di playoff e della loro stagione 22 a 22 tra vittorie e sconfitte dopo questo singolo game un'ultima partita per decidere se chiuderanno in positivo o in negativo e ironia della sorte sono al rischio di chiudere in negativo perdendo contro l'ultima della classe non hanno mai perso contro le squadre che non sono andate in playoff la prima volta potrebbe essere quella che veramente li porta con il morale sotto le scarpe qua di nuovo guarda il sustain 18 24 smite 24 veramente sfortunatissimi di Alex ma il lavoro fatto da vista è stato spaventoso anche solo la Stasi per rimanere in vita all'interno del fight è un tasto premuto è una giocata non difficile dal punto di vista meccanico ma Clutch Factor semmai ne abbiamo visto uno mentre qua la facile esecuzione dell'ultimo fight che porta appunto la firma sull'1-1 e porterà a Game 3 questa serie che comunque è una serie abbastanza al di sopra delle aspettative dai devo dire di sì con questo secondo game è ufficialmente al di sopra delle aspettative quasi è stato stomp anche per il game di Alex ci saremmo messi il cuore in pace era anche quello che ci aspettavamo dalla serie però importante vedere anche un piccolo moto d'orgoglio da parte di Anwa Live sicuramente farà piacere alla tifosa che aveva una costellazione di biglietti di partite di Anwa sul suo cartellone speriamo anche di vedere però dei DRX che non lasciano correre che vadano a confermare il pronostico della vigilia dei favoriti visto che sono sesta squadra della LCK e quindi ai playoff contro l'ultima e tra l'altro sull'orlo di uno dei peggiori record della storia di LCK di Anwa Live veramente c'è bisogno per questi DRX di arrivare un po' rimi in barca iniziare a fare un po' di analisi di autoanalisi soprattutto perché sono la peggior squadra di questi playoff al momento lo stanno purtroppo dando ne stanno dando dimostrazione vedremo come si risolverà la serie tra poco abbiamo il game 3 tra poco si torna per DRX contro Anwa Live probabilmente anche in quest'ordine in draft vedremo come andrà non mancate grazie a tutti